Suppongo che questo sia tutto ciò che c'era sugli alberi. Forse adesso possiamo finire questa storia senza altre interruzioni. Allora il signor Baggins si rese conto di quanto Gandalf fosse stato scaltro. Erano state le interruzioni ad accrescere l'interesse di Beorn per il racconto e il racconto lo aveva trattenuto dallo schiacciare subito i nani come mendicanti sospetti. Non invitava mai gente a casa, se poteva farne a meno. Aveva pochissimi amici che vivevano tutti molto lontano e non ne invitava in casa mai più di due per volta. E adesso aveva quindici forestieri seduti alla sua tavola. Quando lo stregone ebbe finito la sua storia ed ebbe raccontato del salvataggio delle aquile e di come fossero stati portati tutti sulla carroc, il sole era tramontato dietro le vette delle montagne nebbiose e le ombre erano lunghe nel giardino di Beorn. Che storia magnifica! Egli disse. È la migliore che senta da molto tempo. Se tutti i mendicanti ne sapessero raccontare una così bella forse mi troverebbero più disponibile. Naturalmente potreste esservela inventata tutta ma meritate lo stesso una cena per la vostra storia. Andiamo a mangiare qualcosa. Sì, grazie! Dissero tutti insieme. Con vero piacere! Adesso all'interno della grande sala era proprio buio. Beorn batte le mani ed ecco che entrarono trottando quattro bei poli bianchi e parecchi cani grigi, gagliardi e snelli. Beorn disse loro qualcosa in uno strano linguaggio che pareva essere fatto di suoni animaleschi usati come parole. Essi uscirono e di lì a poco tornarono portando in bocca alcune torce che accesero sul fuoco e fissarono a certi sostegni sui bassi pilastri al centro della sala. Quando volevano, i cani potevano rizzarsi sulle zampe posteriori e portare qualsiasi cosa con quelle anteriori. Presero dalle pareti laterali tavole e cavalletti e li sistemarono rapidamente accanto al fuoco. Poi si udì ed entrarono alcune pecore bianche come la neve capeggiate da un grosso montone nero come il carbone. Una reggeva una tovaglia bianca con figure ed animali ricamate sul bordo. Altre portavano sull'ampio dorso vassoi con scodelle, piatti da portata, coltelli e cucchiai di legno che i cani presero e disposero velocemente sulle tavole rustiche. Queste erano molto basse, così basse che persino Bilbo poteva sedervisi comodamente. Sui lati un pony spinse e due sedili bassi con un largo fondo di vimini e gambe tozze e corte per Gandalf. Mentre a capotavola mise la grossa sedia nera di Beorn che era della stessa sorta su cui egli sedeva con le grosse gambe allungate sotto un bel tratto di tavolo. Queste erano tutte le sedie che avesse in casa e probabilmente erano così basse per la comodità degli straordinari animali che lo servivano. Ma su cosa si sederono i restanti ospiti? Non furono dimenticati. Gli altri pony entrarono facendo rotolare dei tronchetti piallati e lucidati e bassi fin troppo perfino per Bilbo. Così, in breve, furono tutti seduti alla tavola di Beorn e da molti anni quella sala non vedeva un raduno simile. Lì cenarono, o meglio banchettarono, come non avevano più fatto dopo aver lasciato l'ultima casa accogliente a Oriente. e aver detto addio a Elrond. La luce delle torce e del fuoco guizzava attorno a loro e sulla tavola c'erano due candele alte e rosse fatte con la cera delle api. Per tutta la durata del pasto Beorn con la sua voce profonda e tonante raccontò storie delle terre selvagge ai piedi di quel versante delle montagne. E soprattutto del bosco scuro e pericoloso che si stendeva da nord a sud a un giorno di galoppo davanti a loro. Sbarrando la strada verso est, la terribile foresta di Bosco Tedro. I nani ascoltavano e scuotevano la barba poiché sapevano che presto avrebbero dovuto avventurarsi in quella foresta e che dopo la montagna era quello il pericolo peggiore che avrebbero dovuto affrontare prima di arrivare alla roccaforte del drago. Quando la cena finì cominciarono a propria volta a raccontare storie ma Beorn sembrava sempre più insonnolito e prestava loro poca attenzione. Per lo più parlarono di oro, argento e gioielli e della lavorazione dei metalli e Beorn non sembrava interessata a quel tipo di cose. Non c'erano oggetti d'oro e d'argento nel suo salone. E a parte i coltelli c'era ben poco che fosse stato fatto di un metallo qualsiasi. Rimasero a lungo seduti a tavola con i loro boccali di legno pieni di idromele. Fuori calavano le tenebre della notte. I fuochi in mezzo alla sala venivano riattizzati con nuovi ceppi e le torce vennero spente ed essi continuarono a star seduti alla luce delle fiamme che danzavano. Con i pilastri della casa che si stagliavano alti dietro di loro scuri in cima come alberi della foresta. Che si trattasse o no di magia a Bilbo parve di udire un suono simile allo stormire del vento tra i rami provenire dalle travi del tetto e un bubolar di gufi. Presto la testa cominciò a ciondolargli per il sonno e le voci sembrarono farsi più lontane finché si svegliò con un sobbalzo. La grande porta aveva cigolato e si era chiusa con fracasso. Beorn se n'era andato. I nani stavano seduti a gambe incrociate sul pavimento intorno al fuoco e proprio allora cominciarono a cantare. Alcuni versi erano presso a poco simili a questi ma ce n'erano molti di più e il loro canto andò avanti a lungo. soffiava il vento sull'arida brughiera ma di foglie non fu fremito nel bosco notte e giorno chiarore mai non c'era cose scure strisciavano nel buio fosco. la testa di Bilbo ricominciò a ciondolare improvvisamente Gandalf si alzò è ora di andare a dormire disse per noi ma non per Beorn credo in questa sala possiamo dormire tranquilli e sicuri ma vi avverto di non dimenticare che cosa ha detto Beorn prima di lasciarci non uscite da qui prima che il sole sia levato se non volete correre rischi. Bilbo vide che i letti erano già stati preparati in fondo alla sala su una specie di piattaforma rialzata tra i pilastri e la parete esterna per lui c'erano un materassino di paglia e qualche coperta di lana visira gomitolò tutto felice benché fosse estate. Il fuoco era basso ed egli si addormentò tuttavia si svegliò durante la notte e il fuoco si era ridotto a poche braci i nani e Gandalf dormivano tutti a giudicare dal loro respiro su pavimento c'era una chiazza di bianca luce lunare che filtrava attraverso il foro per il fumo del soffitto si udì un suono come un latrato all'esterno e un rumore che pareva prodotto da qualche grosso animale che trascinasse le zampe davanti alla porta Bilbo si domandò che cosa fosse e se potesse essere Beorn trasformato per magia e se sarebbe entrato in forma di orso egli avrebbe uccisi tutti si ficcò sotto le coperte e nascose la testa finalmente si riaddormentò nonostante tutti quei suoi timori grazie a tutti